Il cantiere in questi giorni è tornato in movimento, ma i tempi previsti per la ricostruzione del ponte di via Scolana tra Albadriatica e Corropoli slitteranno sicuramente di alcune settimane. Lo scorso 5 febbraio era il termine fissato per concludere i lavori di ricostruzione del ponte sul Vibrata, ma i termini previsti sono stati decisamente superati. I tempi infatti si sono allungati anche perché nel frattempo è intervenuta una variante progettuale che prevede un miglioramento tecnico della nuova struttura. Il tecnico progettista infatti ha previsto di apportare delle modifiche, utili per diminuire le sollicitazioni e prelungare i tempi delle manutenzioni del nuovo ponte. Ecco dunque che la ricostruzione del ponte, affidata al genio civile che ha appaltato l'opera, invece di concludersi in questi giorni, slitterà a primavera inoltrata. La tempistica precisa non è stata ancora definita. Certo è che bisognerà pazientare ancora prima di tornare a percorrere il ponte sul Vibrata, ormai chiuso dall'ottobre del 2020. Gli automobilisti che si spostano in Val Vibrata, costretti ad allungare i percorsi classici ormai da troppo tempo, sono stanchi delle lungaggini e c'è chi ha voluto manifestare il proprio malessere nei giorni scorsi con una scritta emblematica sul cartello che indica le caratteristiche tecniche dell'opera e i tempi di realizzazione che, dati alla mano, si sono ulteriormente dilatati.